Anche questo è diventato un evento, questo giorno l'abbiamo messo in giro, ci teniamo tantissimo alla nostra Santa Patrona, sappiamo cosa si migliora, avete visto che l'agenda che mi ha corso qua, abbiamo fatto enormi sacrifici, tutti insieme, l'amministrazione, la chiesa, l'unità, l'associazione, tanta gente ci ha lavorato perché sappiamo cosa è da presente. Attendo al primo posto l'evento religioso poi c'è un evento turistico, un turistico di attività economiche che si muovono, c'è tanto attorno alla festa di Santa Patrona, è giusto onorarla, io ci credo, ci ho sempre creduto, so cosa significa e non mi stancherò mai di aggiungere sempre cose in più, cose nuove per la nostra festa, perché non è solo il momento della festa, è un tutto. L'anno scorso abbiamo avuto più di 30.000 persone qua, quindi significa che è un piatto importante, un'immagine importante per Patrona.